Angela Merkel è riconfermata dalle urne alla guida del governo tedesco per i prossimi quattro anni. Non più una grande coalizione con il compito di fare la sintesi delle crescenti contraddizioni della Germania post-recessione, la Merkel sarà capo di una maggioranza di centrodestra che la consegna la storia come la prossima Thatcher. Così scrivono molti quotidiani. Come aveva annunciato nella campagna elettorale più stanca che la Germania ricordi, la Merkel governerà con i liberal-democratici, che rispetto alle scorse elezioni guadagnano la doppia cifra nei consensi. Risultato analogo per la Linke, la sinistra radicale e i Verdi. E i piccoli partiti già annunciano che l'era dei grandi sia ormai tramontata. La fotografia che esce dalle urne è chiara. Il crollo elettorale della SPD e il partito dei social-democratici interrompe il cammino della sinistra riformista e apre anche in Germania il problema delle estreme. La ricetta della grande coalizione sperimentata negli scorsi anni non è più praticabile.